Senta, io sono De Falco da Livorno, parlo col comandante? Sì, buonasera, comandante Di Falco. Mi dica il suo nome, per favore. Sono il comandante Schettino, comandante. Schettino? Sì. Ascolta, Schettino. Ci sono persone intrappolate a bordo, adesso lei va con la sua sciolupa. Sotto la prua della nave, lato dritto, c'è una biscaggina. Lei sale su quella biscaggina e va a bordo della nave. Va a bordo della nave e mi viene a dire, mi riporta quante persone ci sono. E' chiaro? Io sto registrando questa comunicazione, comandante Schettino. Allora, scordate, le dico una cosa. Parli a voce alta. Allora, la nave adesso, io sono qua, dicendo... Comandante, parli a voce più alta, metta la mano davanti al microfono e parla a voce alta. Chiaro? Allora, in questo momento, la nave è inclinata. Ho capito. C'è gente, ascolti, c'è gente che sta scendendo dalla biscaggina di brua. Lei quella biscaggina la percorre in senso inverso, sale sulla nave e mi dice quante persone. E che cosa hanno a bordo. Chiaro? Gli dice se ci sono bambini, donne o persone bisognose di assistenza. E me ne dice il numero di ciascuna di queste categorie. E' chiaro? Guardi, scherzino, che lei si è salvato forse dal mare, ma io la porto veramente molto male. Faccio passare l'anima di guai. Vado a bordo, cazzo. Comandante, per cortesia. No, per cortesia, lei adesso prende e va a bordo. Mi assicuri che sta andando a bordo? Io sto andando qua con la lancia dei soccorsi, sono sotto qua, non sono andato da nessuna parte, sono qua. Che sta facendo, comandante? Sto qua per coordinare i soccorsi. Che sta coordinando lì? Vado a bordo, mi coordino i soccorsi da bordo. Lei si rifiuta? No, no, non mi sto rifiutando. Lei mi sta rifiutando di andare a bordo, comandante? No, no, ci sto andando. E mi dica qual è il motivo per cui non ci va. Ci sto andando perché ci sta l'altra lancia che si è fermata. Lei vada a bordo, è un ordine. Lei non deve fare altre valutazioni, lei ha vincianato l'abbandononave. Adesso comando io. Lei vada a bordo. E' chiaro? Comandante. Non mi sente? Sto andando a bordo. Vada. Mi chiami immediatamente da bordo, c'è il mio soccorritore lì. Dove sta il tuo soccorritore? Il mio soccorritore sta a prua. Avanti. Ci sono già dei cadaveri, Schettino. Avanti. Quanti cadaveri che ci sono? Non lo so, uno lo so, uno l'ho sentito. Ve lo devi dire a lei quanti ce ne sono? Cristo. Ma ti rende conto che è buio e che qua non vediamo noi? E che vuole tornare a casa, Schettino? E vuole tornare a casa? Salga sulla prua della nave tramite la bisca G. e mi dica cosa si può fare, quante persone ci sono e che bisogno hanno. Ora! Siamo andando, cazzo, lei è il comandante in seconda. Come? Siamo al comandante in seconda qui. Salite tutte e due allora. Tutte e due. Come si chiama il secondo? Come si chiama il secondo? Dimitri. Dimitri cosa? Dimitri Cristini. Lei è il suo secondo salite a bordo. Ora. E' chiaro? Cosa? Io voglio salire a bordo. Semplicemente che l'altra scelta qua, ci sono gli altri soccorri di lui. Si è fermata, si è fermata e si è tallaterina. Adesso ho chiamato altri soccorri di lui. Lei è un'ora che mi sta dicendo questo. Adesso va a bordo. Va a bordo. E mi viene a dire, e mi viene subito a dire, quante persone ci sono. Va bene comandante. Nada, subito.